ok nazione portogallo ma salve a tutti ragazzi eccoci qui in un nuovo video come avete visto dall'intro abbiamo trovato l'icon più forte del gioco ma non ci fermiamo qui abbiamo fatto anche un botto di pic i pack 20 82 più il pack 20 84 più quindi ragazzi io come sempre visto che il 96 per cento di voi non è scritto al canale vi chiedo solo di iscrivervi lasciare un like commentare il video e let's go 20 82 più completata sicuramente non ci darà un patto glory via if walk out chi è da animar cash michael oddio che c'è sotto benzema casemplio croche merda pacchetto 20 84 più attenzione attenzione si apre si guarda dritto patto glory walk out svizzera zaccaria zaccaria buonissimo questo devastante qua potremmo invece aprire shrek e guardare gli overall da destra sinistra c'è zaccaria però attenzione che potrebbe esserci anche altra roba ok subito alti non 84 mertens 84 andanovic 84 sergio ramos 84 chicco 85 subito walk out subito walk out sull 85 rodri 87 buono tiramelo su robertson 87 verrati 87 tira su tira su shrek shrek 89 88 lewandowski 91 ce ne sono ancora due tre qua eh penso patto glory zaccaria oddio c'è liro o è un if di ab if ok oro premio max compreso minimo 83 garantito guardiamo walk out e oh no screener di figa vabbè pacchetto giocatore roprime piccolo walk out walk out cambiabile ti prego crediti robertson l'abbiamo appena buttato ce lo ridà ai poi si apre dritta e si guarda in faccia brasile ti prego brasile ti prego brasile ti prego brasile argentina cc no richelme non c'è più maradone vero porco due e ultimo marcosensio doppione prime dieci pic una merda da dicevo 20 pic 21 piccata di 84 il migliore via patto glory walk out attenzione danimarca delanei cavolo poteva andare meglio però calma sotto ci potrebbe essere roba crouch anche l'eroe 20 82 più via patto glory walk out colonia chi è che c'è le bandoschi a milic zio pera però sotto attenzione abbiamo visto che ci può essere un hero vai doppio usorio e milic o kim kim nel picchettino kim nel picchettino e c'è buono kim nel picchettino allora nascondino cameroon primo di tutti via col camerun onana zambo anghissa toque cambi ma non c'è e tu ungheria non è lo schifo ucraina sceva non è sceva poi che c'è nell'ultima pagina basta e se abbiamo scozia che buono lo schifiamo serbia vidic serbia non è di cosa che c'è russia yashin yashin 89 attenzione attenzione non è male giocatore dopo in piccolo patto glory walk out scambiabile per il bassa inghilterra che che c'è grilish scambiabile grilish ma quanti patto glory droppa stasera via si guarda dritta allora nazione bella italia atti zola baggio o vecchio e forte baggio è con un cacciatorino baggio non è male allora vendi giocatori dello povero di 82 superiore via if ahhh michael nooo che schifo ora anche c'è sotto mamma spero di gioco però almeno oviedo bro mamma mia che si doppione che schifo vai icona base aperta dritta vai ok ok nazione portogallo eusebio 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 il più forte ragazzi incredibile ma vero abbiamo trovato letteralmente l'icona che vale di più tra le bebie la più forte ovviamente allora questo è il pacchetto del rotto glory taikon base e si vola via ok ecco una icona olanda ma ti troverga guardiamo un bel francia tt o si gira le bandiere inghilterra dc tomori tomori fico io ti amo 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 20 giocatori 84 più sul secondo account si apre no vecchio non è neanche speciale che schifo no non è vero arnold no non può far così schifo davvero doppio rosso schifoso qualche 86 mamma mia che merda alla prossima ciao ciao